Si è aperto a Loreto, nel Santuario Mariano, l'anno pastorale della Diocesi di Macerata. Il Vescovo Monsignor Nazareno Marconi ha consegnato ai presenti la lettera pastorale per l'anno 2018-2019. Ha come tema celebrare la speranza. È il punto finale di un cammino triennale che era stato preceduto da un cammino sulla fede, sulla catechesi, sulla carità. Quest'anno è il cammino della speranza, che richiama soprattutto alla celebrazione eucalistica domenicale fonte e punto di arrivo della comunità cristiana. Ciò che mi accingo a fare consegnando a voi la mia lettera pastorale non è un atto di imperio, non è un gesto di potere. Ma è un atto di servizio, almeno così lo intendo. Si inserisce questa lettera in un cammino organico ispirato a quella conversione pastorale di cui Papa Francesco parla spesso, che ha chiesto a tutta la Chiesa e in modo particolare nel convegno di Firenze la chiesta alla Chiesa italiana. Una conversione pastorale, un cambio di stile. La lettera pastorale ci invita a riflettere sul cammino che abbiamo fatto negli scorsi anni, ricordando, come li chiamo io, dei piccoli passi possibili, non impossibili, non grandi, però i piccoli passi vanno fatti. Come dobbiamo fare per migliorare il nostro annuncio del Vangelo? Nella lettera raccomando tre scelte che l'anno scorso abbiamo trovato come fondamentali. Una cura della Catechesi per i Sacramenti, l'offerta di cammini di fede semplici per gli adulti, l'attenzione alla formazione dei fidanzati e delle giovani famiglie. Questi sono i punti forti su cui abbiamo riflettuto l'anno scorso e su cui dobbiamo lavorare. E per il cammino futuro il tema è la liturgia. Il tema è la liturgia perché quello che manca oggi soprattutto è la speranza. E io parto dall'idea che ancora attorno a noi tante persone cercano nella liturgia, nella celebrazione dei Sacramenti, di fare un incontro di salvezza con il Signore, di vivere un contatto con Lui che ridia speranza e ci cambi la vita. È un desiderio buono. Dobbiamo partire da qui e dobbiamo celebrare una liturgia che nutre la fede, stimola la carità, rafforza la speranza. Siamo qui, nella casa di Maria, non a caso. È Maria, la maestra che insegna alla Chiesa di oggi e di sempre come celebrare la speranza. Che lei ci guidi in questo cammino, nel cammino di questo anno.